ciao a tutti benvenuti in questo nuovissimo video finalmente è aggiunto il giorno per la nostra partenza verso che andiamo nelle vacanze e sì ma andremo verso la sardegna siamo contentissime abbiamo preso i canzini allora ragazzi qua a verona sta piovendo fortissimo e incrociamo le dita e speriamo chi dirà in sardegna non piove giusto che sole abbiamo preso i canzini come vedete perché veramente fa un po freddino ecco ragazzi c'è il vento piove tantissimo ragazzi faremo dieci ore di strada di viaggio praticamente fino in sardegna erika ha preso i suoi occhiali come vedete anche la vanessa vediamo questi occhiali sono molto molto fashion rossi anche i miei ma le ho messe già nella mia borsa e ragazzi quelle borse chi li vedete laggiù si devono mettere tutte in macchina incrociamo le dita speriamo che entrano tutte perché giù ne vedono stotte mi fai vedere cosa hai preso dentro perché io se vi dico la verità vi ho messo qualcosa da mangiare anche vediamo sono delle merenghine un giocattolo ecco è un unicorno vanessa ce l'ha anche il cracker dopo c'è un'altra cosa i fazzoletti la tua boraccia bella con un'unicorno si che voglio bere erika vanessa abbiamo preparato tutto giusto siete pronte dove sei vanessa ti sei incastrata eccoci ragazzi siamo in macchina fuori sta piovendo tantissimo siamo pienissimi anche il bagagliaio è pieno pieno occhio è un po più prima erika faceva le nane guardate le poverine è importante che c'è l'orsacchiotto di vanessa ha ricaduto bene fa male la pancia poco poverina abbiamo preso le medicine sai per nausea si ragazzi dobbiamo fare dobbiamo fare tre ore tre ore e mezza fino a livorno e dopo dobbiamo prendere il raggetto fino in sardegna non vediamo l'ora ecco ragazzi siamo venuti al porto qua di porno e vi facciamo conoscenza con questo bambino piccolino ma ciao ma ciao come si chiama erika? ehm gabriel si si chiama gabriel e adesso dobbiamo aspettare il nostro raggetto giusto? si dobbiamo aspettare un po' del tempo ciao abbiamo fatto una giornata un po' lunga abbiamo fatto una giornata un po' lunga siamo fermati a casa di gabriel abbiamo mangiato la pizza e adesso cosa facciamo vanessa? andiamo a questo apporto ma siamo qua dopo ci fermiamo dobbiamo mangiare perché il nostro raggetto parte per le undici esattamente si dormi che andiamo in acqua si vi facciamo vedere ragazzi tutto sei contenta erika? ragazzi volete vedere il draghetto? ecco eccolo che grande mamma mia erika per la prima volta si va con questo draghetto grande e sai? si devi trovare anche le macchine wow avremo anche una camera dove faremo la nanna mamma mia ma è gigantesco ah è gigante hai visto? hai visto? c'è il draghetto grande 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 sei contenta? io spero che ti chiesti barca da allora io ragazzi li devo fare la traduttrice perché lui non capisce l'italiano parla solo mondavo ecco è un draghetto tra due settimane parlerai l'italiano con noi lo sai? si chiama traghetto barco mare per lui è una barca grande è un traghetto mare 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 un raso come ti senti erika? bene bene sei contenta? si in macchina mi faceva male mi faceva male la pancia tanto avevo preso una medicina quella di coma eh si ragazzi abbiamo preso le medicina per la vanessa che è più piccola abbiamo preso i braccialetti si si così non avrà nausea eh e io in macchina avevo nausea si avevi male poverina quale dopo oggi faceva che avevo mangiato due merendine è gigante e no con la macchina dentro viene qui dentro e ci sono delle bacchette piccole sei contenta? si tanto? anche io voglio dare allora ragazze dovete stare vicino alla mamma e a papà perché ci sono tanti ci sono tanti dentro ragazzi vi piace il mio nuovo look? sono come una ragazzina stile sport bellissimo ah? mi piace tantissimo ci divertiamo e vi teniamo aggiornati restate con noi ciao dobbiamo fare la fila ciao ciao restate con noi perché saranno dei giorni divertentissimi ben arrivate le nostre vacanze ciao vi mandiamo tantissimi coricini voglio vedere tanti coricini da voi coricini, coricini, coricini vieni miari anche bacini mamma mia ma questi bambini veramente mi amano tanto Erika è quella che diceva mamma mia guarda c'è il traghetto che arriva dai comincia a fare il video moro guarda cosa hai vanessa? un giocattolo è un giocattolo? ma di chi è questo giocattolo? me lo fai vedere è di gabriel è di gabriel sì io voglio giocare vuoi giocare ma hai chiesto il permesso? sì sì e lì ci sono i lettini guardate vedete quella finestra di Dante sì sono i lettini sono le camere dentro hanno il letto i giocattoli i giocattoli i giocattoli non saprei guarda Erika sono tante domande che mi stai facendo ma non so cosa risponderti perché anche per me è la prima volta e poi entriamo su mamma mia come si sente ehi Vanessa hai visto? hai visto il traghetto? oh oh si deve fare attenzione cosa? io sto nella parte ragazzi abbiamo aspettato tantissimo praticamente siamo venuti tre ore prima ecco di là di là c'è il signore che ci fa vedere grazie mille è pieno è pieno parca hai visto? sono tante macchine ecco stiamo qua in mezzo arrivate adesso si cerca la nostra camera papino che numero? tre mila tre mila quattro? non vi dico non vi dico è una sorpresa vai da lì è una stanza bellissima vi facciamo vedere la lontana stiamo con la barca ecco ma siamo nella barca ecco ma siamo nella barca stiamo con la barca sì siamo dentro ecco ragazzi siamo entrati finalmente e io voglio dormire qua dove vuoi dormire tu? laggiù vanessa invece tu dove vorresti dormire? lassù eh ma anche io voglio eh non so è ancora è ancora sì è la vanessa è piccolina perché la vanessa si gira tutta la notte e ho paura che cadesse giù? sì non c'è la sbarra protettiva per non cadere giù o può dormire qui con me meglio si dorme laggiù? no 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 da quell'altra parte cosa ne dite? sì no ho un'idea vanessa da me qui e tu dormi qua e papà dormi qua e io qua e tu vanessa cosa ne dici? chi è? la sua faccia mi dice tutto allora ok e guarda anche qua c'è il specchio ragazzi siamo usciti fuori ecco è bellissimo qua andiamo a cercare l'accessore perché dobbiamo andare con l'accessore su se non mi sbarri sono i giochi la sì andiamo vanessa andiamo 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 ecco corri 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 mamma mia che divertimento oggi si diverte è lei la mia amica Cristina ciao il nostro amico Oleg ciao i nuovi cioè si sentono un po' diversi sì sì fra due settimane parlerete solo l'italiano ok ecco eccoli dove siamo qua? siamo qua? dove si va? dove si va? ciao 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 noi ci abbiamo tanto so e entriamo tutti qua ragazze guardate c'è il mare bello siamo venuti qua nella nostra stanza le bambine hanno preso una pigiama se possiamo dirla così ecco ecco con i leghi su uguali ciao a tutti ci vediamo domani mattina adesso chiudi occhi e si deve dormire ok? domani mattina guarda che ti sveglio ok? va bene guardate amore faccina anche voi ragazzi dovete dormire eh sì chiudi dai chiudi occhi buongiorno ragazzi sono le 5 e mezza di mattina andiamo a svegliare le bambine ecco ecco che dolce Erika Erika dobbiamo svegliarci Erika Erika dai vai il culetto svegliati 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 dai ragazzi vi lascio e svegliamo anche la Vanessa eccola come sta dormendo Vanessa buongiorno Vanessa dai ci svegliamo ci dobbiamo svegliare ragazzi e ragazzine siamo arrivati qua in Sardegna il viaggio è stato bellissimo io sono stanchissima stanca morta e le bambine là dietro con tutto quel casino perché siamo pieni pieni abbiamo portato da mangiare tanta roba e vi prepariamo anche tanti video non vi do neanche un spuntino ragazzi eccoci qua nella nostra casa in Sardegna abbiamo fatto il bagno adesso papino sta preparando le pape mamma cosa vuoi dire? io prendo il mio giocatore ok vai 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 siamo arrivati il viaggio è stato lunghissimo ma ce l'abbiamo fatta eh sì è stata una giornata molto 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 lunga adesso vi vogliamo far vedere com'è dentro andiamo 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 ecco questa è l'entrata si entra qua ecco si entra e di là c'è il tavolo tra poco mangeremo la pasta bianca no papino ha preparata la pasta con tono basilico e pomodoro ma ma è già mescolato? si tutto mescolato eccoci ciao Vanessa cosa stai facendo? cos'hai? hai fatto una bua? hai fatto male? non c'è una spina volete vedere la camera il bagno eh sì che lo vogliamo tutto ce lo fai vedere tutto? tutto ecco allora quello è il bagno ecco qua c'è il bagno dove si fa 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 il bagno la doccia la doccia si si fa la doccia e dove laviamo i denti qui ci sono i spazzolini là c'è tutto andiamo più avanti ecco questa è la camera è la nostra camera è la nostra camera l'abbiamo messo hai visto che abbiamo messo tutte le scarpe a posto? qui ci sono i vestiti dentro abbiamo messo tutta la roba e qua c'è il salotto di là la Erika sta dormendo perché il divano si apre giusto? e si chiude e si chiude allora prima si deve spostare un pochino dopo lo fai così e dopo lo metti in giù e si fa il letto è giusto ecco 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 papino cosa ha preparato papino? qua la pasta yummy grazie mille papino il viaggio è stato lunghissimo e la Erika si mangia basta basta mangi poco vedrai che chiederei dopo di nuovo si ok buon appetito ragazzi si mangia buona fate attenzione che volente buona si yummy ragazzi adesso vi dobbiamo salutare perché ci mettiamo al tavolo a mangiare perché si raffredda la nostra pasta non dimenticate però di iscrivervi al nostro canale e di mettere tanti like fatelo e vi mandiamo tantissimi coricini e anche tanti fiori anche un fiori che l'abbiamo trovato qua nel nostro giardino ok buon appetito buon appetito come vedete la Vanessa già ha cominciato a mangiare vi prepariamo ragazzi vi prepariamo tantissimi video e non dimenticate di iscrivervi e attivate la campanellina così potrete vedere ogni settimana i nuovi video ciao